Iscriviti al canale e non dimenticare di cliccare sulla campanella per ricevere una notifica ogni volta che viene pubblicato un nuovo video. La sera del giovedì santo è un momento di riflessione di preghiera profonda per i cristiani di tutto il mondo. È il momento in cui si celebra l'ultima cena durante la quale Gesù ha istituito l'eucaristia e il sacerdozio. È anche il momento in cui si ricorda il tradimento di Giuda e l'arresto di Gesù che ha segnato l'inizio della sua passione morte in croce. La preghiera della sera del giovedì santo è un momento di ringraziamento per l'amore di Gesù e di supplica per la forza di seguire il suo esempio. Preghiera della sera del giovedì santo Dio Padre in questa sera del giovedì santo ci uniamo a te in preghiera e in adorazione per ringraziarti per il dono del tuo figlio che si è offerto per noi sulla croce per salvarci dal peccato e dalla morte. Oggi ricordiamo l'ultima cena in cui Gesù ha istituito l'eucaristia, il sacramento del suo corpo e del suo sangue. Ti ringraziamo per questo dono meraviglioso che ci permette di unirci a lui in modo così intimo e personale. Ti preghiamo di aiutarci a vivere questo sacramento con umiltà e devozione, rinnovando il nostro impegno a seguirlo e amarlo di più. In questa sera ricordiamo anche il tradimento di Giuda e l'arresto di Gesù che ha segnato l'inizio della sua passione e morte in croce. Ti preghiamo di aiutarci a riconoscere le nostre fragilità e i nostri peccati e di perdonarci e rinnovarci con la tua misericordia. Ti preghiamo per tutti coloro che soffrono a causa della malattia, della solitudine, della povertà o della violenza. Donaci la grazia di essere vicini a loro e di portare loro la tua croce e il tuo conforto. Ti preghiamo anche per la tua chiesa perché possa continuare a essere un segno di speranza per il mondo portando il tuo amore e la tua misericordia ovunque ci sia bisogno. Ti affidiamo tutti noi la nostra vita e le nostre preghiere per intercessione di Maria, Madre della Chiesa. Aiutaci a seguire l'esempio di tuo Figlio che ha offerto la sua vita per il bene degli altri. Amen. Grazie a tutti.